La piazza di Santa Maria Novella è una delle più grandi della città, ha una forma ellittica. Nel passato c'era il Palio dei Cocchi. Il Palio dei Cocchi era un palio che veniva fatto il 23 di giugno, dove i quattro quartieri di Firenze dovevano correre su una biga trainata da cavalli, un po' tipo Berur. Dovevano fare tre giri della piazza intorno ai due obelischi che ancora oggi sono nella piazza e il vincitore vinceva un palio, è un drappo dipinto su seta. Fino all'Ottocento abbiamo avuto questo palio, poi considerato pericoloso e quindi adesso non si fa più, si fa il calcio storico. Se vi guardate intorno ci sono dei bellissimi alberghi in questa piazza e tante delle vetrate sono state decorate da artisti famosi del Novecento, tra cui Galileo Chini. L'edificio in contrapposizione alla facciata è un edificio con delle colonne, è il vecchio ospedale di San Paolo. Nel 1592 Ferdinando I della famiglia Medici istituì il primo ospedale per convalescenti in Italia. A oggi usato come museo.